Daniela, però dobbiamo dire tanti orgogli italiani perché è un weekend pazzesco. Partiamo ovviamente dopo quasi due ore di partita. Sinner si impone anche l'ATP di Rotterdam, arrivato terzo al mondo, ma dobbiamo dire la quadarella Oro, ai 800 di stile libero, ma poi dobbiamo anche dire la Brignone seconda, la Bastino terza, ma ancora Evelyn Lental che è arrivata prima nuovamente, campionessa del mondo, l'ottava volta di slittino singolare. Quindi complimenti, ma ancora tanti altri. E ne parliamo con Marco Franzelli, responsabile sport del TG1. Grazie Marco per essere qui. Grazie a voi Massimiliano, dimmi tutto. È pazzesco, dobbiamo dire, veramente un weekend straordinario e tra l'altro tutti giovani. Tutti giovani, hai citato appunto Quadarella, hai citato la Bastino, che ha vinto la discesa libera sabato per la prima volta nella sua carriera, però segnatevi un nome, si chiama Mattia Furlani, fa il salto in lungo, il papà faceva il salto in alto, la mamma è del Senegal, non ha ancora 20 anni, ha saltato 8,34 metri, che è il nuovo record italiano e soprattutto è la migliore prestazione mondiale sotto i 20 anni, cioè nessuno sotto i 20 anni nella storia dell'atletica ha saltato così lungo. Mattia Furlani, ne sentirete parlare, come di Yannick Sinner. Ecco, l'Italia, un paesino così piccolo ma leader veramente nel mondo. Parliamo proprio di Sinner, è partito un pochettino affaticato e poi dopo grandissime emozioni. Affaticato e il fatto che sia riuscito a vincere, pur giocando male o meglio, pur giocando al di sotto di quello che abbiamo visto fare in Australia, ci dimostra di quanto sia cresciuto, cioè se uno riesce a vincere con delle armi tecniche più deboli, come nel suo caso di ieri, significa che ha acquisito una sicurezza che gli permette poi di emergere nei momenti decisivi della partita, come ha fatto ieri. Marco, ripresi veramente da tutte le parole di Sinner, numero 3 al mondo? Solo un numero, più importante, essere esempio. Sì, lui ne ha parlato anche nell'intervista che abbiamo fatto ieri per il Tg1, di esempio per i ragazzi e le ragazze che giocano a tennis o che hanno intenzione di giocare a tennis. Ha detto, io sono così, non mi cambio, posso piacere, posso non piacere, però sono così, così interpreto il mio sport. Ecco, se voi volete giocare a tennis, e si augura che possano farlo in tanti, seguite in questo senso il mio esempio, cioè il lavoro, la dedizione, il sacrificio, la rinuncia a abitudini che sono consuete per i ragazzi. E il fatto che poi sia arrivato adesso abbiamo un italiano terzo al mondo? Sì, lui, anche questo, ha la sua forza e questa capacità di porsi un obiettivo, di raggiungerlo e di andare oltre. Non si ferma lì. Bieri mi diceva, beh, io però devo migliorare il servizio, quindi mi devo allenare, devo migliorare nelle variazioni dei colpi, non va bene, devo crescere fisicamente, quindi non sono a posto. Cioè, arrivi terzo, non ti concedi neanche, così, il piacere di una serata fra gli amici e dici come posso fare per migliorare. E allora, ringraziamo Marco Franzelli, grazie per essere stato con noi, e noi concludiamo questo spazio sempre con le sue parole, dicendo, penso che per me sia stata dura, ma anche per i genitori lasciare il figlio a 14 anni non è stato facile.